Creativi, solidali, artistiche, così si definiscono le sardine aretine che sono pronte per la manifestazione di sabato 5 gennaio in Piazza San Jacopo. Proprio adesso le mie spalle in Piazza Zucchi stanno preparando i manifesti. In Piazza Zucchi per disegnare le sardine che poi andranno in Piazza San Jacopo? E certo, ci siamo riuniti tutti, mi fa piacere che siamo un sacco di giovani, nonostante appunto il freddo e tutto, siamo qua, ci stiamo impegnando per rendere più colorata anche la piazza di sabato. La scelta di Piazza Zucchi non è certo casuale, siamo a Saione, il quartiere più popolato da cittadini extracomunitari. Un argomento, dicono le sardine, che spesso divide, oggi vogliamo che unisca. Essendo anche fuori dal centro, penso sia anche per unire un po' le persone da ogni dove, quindi non focalizzarsi sul centro abitato. Per esempio abito dietro l'ospedale, c'è la residenza universitaria, ci sono un sacco di più di variceti, anche dicendo, sì, variceti, quindi più ragazzi, sì. La manifestazione 6.000 sardine ad Arezzo in calendario per sabato 25 gennaio dalle 18 alle 20 in Piazza San Jacopo determinerà anche cambiamenti al traffico. La zona che si trova in piano centro sarà off-limits alle auto dalle 15 alle 21, comprese le strade limitrofe. Un raduno colorato e informale di liberi cittadini, così si definiscono le sardine, che invitano gli aretini a partecipare, portando con sé cibo in scatola anche di sardine, che sarà poi consegnato alla Caritas e alla Fraternità Federico Bindi, che accoglie senza tetto. È sempre più facile avere lo slogan pronto per odiare, invece è più complesso fermarsi un attimo, riflettere, avere i dati alla mano, e quindi noi vogliamo portare consapevolezza, gioventù, perché per forza, e appunto un contraltare utile e intelligente.